Radio Radicale, siamo con Matteo Collaninno di Italia Viva per parlare delle polemiche sul MES. Allora, secondo lei che cosa sta succedendo dopo questo documento dei dissidenti sulla riforma del MES? Allora, alcuni hanno ritirato la firma, poi a sorpresa se ne sono aggiunte altre. Stamattina è venuto a mancare il numero legale in aula sul decreto sicurezza. Allora, lei come descriverebbe questo momento di confusione? Notevolissima confusione all'interno del Movimento 5 Stelle. Siamo di fronte a una settimana molto delicata, molto complessa. È chiaro che ci sono due elementi. Il primo è la riforma del MES, rispetto alla quale c'è una sostanziale via libera. Il secondo tema è invece l'attivazione del MES sanitario, rispetto al quale io sono assolutamente favorevole, rispetto alla quale Italia Viva è favorevole a utilizzarla, anche perché il contesto sanitario oggi richiede questi investimenti. Stiamo parlando di 37 miliardi di euro a tassi di interesse molto convenienti, più bassi del mercato. E quindi non è possibile tirare sine die questa polemica, ma è il momento anche di assumersi delle responsabilità, in un momento rispetto al quale non è più procrastinabile questa decisione che ci stiamo trascinando ormai da troppi mesi. Secondo lei come finirà il 9 dicembre al Senato? Soprattutto considerando tutte le pressioni che ci sono e la confusione che vediamo anche sulla legge di bilancio, dove vengono presentati, tirati fuori emendamenti, che sono fuori dall'orizzonte politico della maggioranza. Io mi auguro che prevalga il senso di responsabilità contro la follia, perché di questo stiamo parlando, non di posizioni intermedie, ma qui non si può più scherzare. Come ha trovato la posizione che ha espresso Berlusconi? Tutti sono rimasti un po' sorpresi, abbiamo visto oggi Brunetta anche sul foglio che è perplesso sulla posizione che ha assunto Berlusconi. Allora, come la spiega, è stata una abile mossa politica per mettere in difficoltà la maggioranza, oppure ritiene che sia un'altra fase della politica di pressione per allargare e cambiare la maggioranza? Ma guardi, non lo so, Berlusconi fino a un certo momento sembrava essere l'unico leader di partiti all'opposizione che cercava un dialogo in un momento in cui nei rispettivi ruoli diversi, maggioranza e opposizione, comunque cercavano di gestire insieme questo momento difficile, tragico dal punto di vista della sanità e di questa pandemia e anche di difficoltà del Paese, delle imprese, degli artigiani, del commercio, delle famiglie di fronte a questa crisi economica. Dopodiché c'è stata questa giravolta che francamente ha sorpreso un po' tutti. Allora, fare tattiche così estremi in un momento come questo sinceramente si sa da dove si comincia, ma poi non si sa da dove si finisce. Salvini ha battuto un colpo e probabilmente questo colpo ha avuto questa risposta. Quindi lei ritiene che Berlusconi abbia voluto ricompattare il centro-destra e alla fine ne esce fuori Salvini rafforzato? Non lo so, è stato un doppio scarto, come dire, difficile da comprendere perché poi così ravvicinato. Ho capito. Senta, sullo sfondo resta, secondo lei, la discussione sull'allargamento della maggioranza o almeno nella versione più soft di un rimpasto? Ma guardi, io credo che oggi la concentrazione dei partiti di maggioranza che sostengono questo governo debbano essere essenzialmente rivolte a tre questioni. La prima, predisporre un'efficace azione di vaccinazione generale del Paese, così come stanno facendo tutti gli altri Paesi, rispetto alla quale Italia Viva ha posto un problema fin dall'inizio anche sull'utilizzo della logistica dei professionisti delle forze armate e dell'esercito. Secondo, il tema della scuola, quindi di gestire gradualmente in sicurezza, inclusi i trasporti, le riaperture progressive di tutti gli ordini scolastici. Terzo, ma non ultimo, la questione economica, nel senso che molte, moltissime imprese rischiano di arrivare a un punto di non ritorno. Tutto il resto è funzione di questo, quindi la maggioranza deve essere in grado di rispondere a questo tipo di priorità e a questo tipo di esigenza. Il resto è una conseguenza. L'ultima domanda, lei come spiega il fatto che lo spread sia così basso, che la borsa regga abbastanza bene quello che sta accadendo in una fase particolarmente difficile, una crisi che è paragonabile forse a quella del 1929? Ma anzitutto va detto che i segnali forti anche dei mercati e delle borse comunque sono giunti di recente quando la scienza ha sostanzialmente detto che il tempo delle vaccinazioni è arrivato con diverse multinazionali coinvolte. quindi è chiaro che siamo di fronte ad una fase più o meno lunga ma comunque di probabile uscita e risoluzione di questa crisi gravissima del coronavirus. E questo chiaramente ha ridato fiducia alla possibile ripresa economica. Va anche detto che il terzo trimestre dell'anno per molte aziende è stato un terzo trimestre assolutamente positivo di rimbalzo e di reazione dal secondo trimestre quello più pesante. E quindi questo si è tradotto negli indicatori macroeconomici italiani e non solo in un fattore estremamente di fiducia. Tutto sta a vedere questi prossimi mesi ancora di pandemia quanto possono durare e il fatto che oggi parlare di vaccini sia ormai un dato di fatto è chiaro che tutto questo è in grado di generare più fiducia anche sui mercati finanziari. La sua risposta mi ha indotto di fare un'altra domanda. Lei avrebbe sospeso le quotazioni in borsa delle case farmaceutiche che producono il vaccino perché in questi giorni noi abbiamo visto una serie di effetti annuncio che hanno avuto anche degli effetti economici e molti hanno visto dietro queste cose anche il timore che il mercato possa agire su questo. Lei ha maturato una posizione su questo o non ha visto nessuna dietrologia? Ma guardi, gli effetti annuncio su fattori così grandi forse i più grandi che possono essere annunciati in un periodo come questo sono effetti da valutare con molta attenzione cioè ci credo poco all'annuncio senza sostanza. Per quale ragione? Quindi lei scommette sulla serietà di tutti questi annunci? Credo di sì, per due ragioni. Il primo perché la reputazione e quindi l'eventuale danno reputazionale di grandi società quotate su tutti i mercati principali del mondo è talmente premiante rispetto a un effetto annuncio che rischierebbero un danno reputazionale con conseguenze devastanti sul piano finanziario quindi ci credo poco. Secondo anche perché al di là dei fatti finanziari ci sono anche delle autorità, c'è l'FDA americana, l'EMA europea quindi c'è un sistema di controllo efficace c'è un sistema di controllo molto efficace e soprattutto ripeto la reputazione rispetto a questi titoli e a queste grandi società, a queste grandi industrie è talmente rilevante che credo che annunciare fattori inconsistenti o rischio di inconsistenza sia talmente grave non lo escludo ma ritengo così a spanne che possa essere talmente grave da indurmi a pensare che non ci possano essere dietro degli annunci meramente speculativi senza grande sostanza dietro così, senza poi essere dentro le cose. La ringrazio sempre per la sua disponibilità ringrazio Matteo Collanino di Italia Viva con il quale abbiamo parlato di questo particolare momento politico grazie Grazie, grazie a voi